Fine settimana all'insegna della grande atletica giovanile con la quarta edizione dei campionati del Mediterraneo Under-23 che si svolgeranno allo stadio adriatico Cornacchia di Pescara. La manifestazione presentata in comune torna in Italia dopo la tappa di Jesolo nel 2018, in mezzo alla pausa dovuta al Covid. La soddisfazione del presidente della Fidelabruzzo Massimo Pompei che fa anche un annuncio importante. Ci siamo, dopo un anno di lavoro siamo riusciti a riportare una manifestazione internazionale a Pescara che ha la caratteristica di avere lo sprint giovanile essendo riservata a federazioni Under-23. Sarà una cartolina formidabile per Pescara e per l'Abruzzo? È una grande opportunità, è un primo passo perché il secondo e quello definitivo sarà il prossimo anno dal 20 settembre al 30 settembre con i campionati Europei Master dove avremo quasi 7.000 partecipanti per 10 giorni. Il primo start delle 37 gare in programma domani pomeriggio alle 16. 400 le atlete e gli atleti a sfidarsi in rappresentanza di 17 nazionali. L'Italia scriverà 40 uomini e 35 donne, tra loro anche la campionessa mondiale Under-20 del martello Rachele Mori. All'appuntamento sarà presente anche un'atleta abruzzese, fresca campionessa italiana di categoria nel lancio del peso. È Ludovica Montanaro, una teatina che gareggia con l'Atletica Gran Sasso e ce l'abbiamo fatta. Lei se l'è meritato perché ha fatto una stagione fantastica e faremo il tifo in maniera particolare per lei.